Ciao ragazzi, benvenuti nel canale, oggi guardate che sono qua, i miei nuovissimi trattori, guardate che belli Ci sono anche gli animali, la pecora, la mucca, poi dopo c'è un'altra mucca, un altro cavallo e una pecora Apriamoli! Come prima cosa, giro di scatola, ok, iniziamo Oh mamma, cosa vuole fare? Il cavallo vuole salire sopra il trattore? Il trattore parte! Stanno imbestendo la pecora? Stanno imbestendo la pecora? E la mucca? Stanno dormendo Oh abbiamo perso il cavallo! Abbiamo perso il cavallo! Abbiamo perso tutti gli animali! Dove saranno? Abbiamo quel trattore! Giro, giro di scatola! Ok, apriamo! Oh che bello il trattore! Oh beee! Il mio primo trattore giallo! E' bello! E' bello! Giallo come la mia maglietta! Avete visto? Che bella la mia maglietta! E' tutto giallo del mondo! Partiamo! Miau! Ora è il più bello ragazzi, il trattore rosso o il trattore giallo? Se vi piace il giallo mettete tantissimi like! E' il mio colore preferito! Per questo ho la mia maglietta gialla! Ciao ci vediamo con il prossimo video! Vedete tantissimi like! Ciao ciao!